Io sono uscito perché avevo finito l'aria, loro stanno rimuovendo i sacchetti, alcuni abbiamo, siccome è venuto fuori qualche elemento ligno, allora ho messo i sacchetti, ho indicato loro quali non rimuovere, per cui si sta procedendo come da programma. Io faccio parte del gruppo di tecnici subacquei e collaboro con l'Università del Salento per questo scavo sistematico. Ho cominciato a fare archeologia subacquea da quando avevo 15 anni, quindi oggi come oggi mi trovo ancora qui a fare quello che è la mia grande passione per il mare e per l'archeologia subacquea. Grazie. 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 Grazie.